Indice argomenti, risparmio energetico, impariamo a leggere le etichette frigorifero, qualche accorgimento per non sprecare energia, impariamo ad usare il forno usa la lavastoviglie a pieno carico il tritari fiuti è un valido alleato per una cucina zero waste riuso e riciclo, cambiamo le piccole abitudini di tutti i giorni niente più plastica la cucina e il cuore della casa, un ambiente in cui passiamo gran parte del nostro tempo dilettandoci ai fornelli nella preparazione. Di una ricetta, oppure dove ci riuniamo con i nostri cari per trascorrere un pranzo o una cena insieme, l'ambiente cucina occupa un posto speciale nella nostra vita, che sia per una colazione veloce oppure per prendere un caffè con gli amici, è impossibile pensare di non trascorrere qualche ora al giorno in quest'area della casa. È possibile applicare i principi della sostenibilità anche in cucina? Assolutamente sì, dal risparmio energetico all'approccio zero waste ecco alcuni dei suggerimenti per avvicinarsi ad una cucina green e sostenibile. Risparmio energetico, impariamo a leggere le etichette. Oltre ad essere il focolare domestico, la cucina è uno degli ambienti dove si registra un maggiore consumo di energia elettrica. Qui troviamo la gran parte degli elettrodomestici presenti in casa, frigorifero, microonde, tostapane, lavastoviglie sono solo alcuni degli elettrodomestici presenti. Saper leggere un'etichetta è fondamentale, il suggerimento è di scegliere elettrodomestici che presentano una buona classe energetica. Un prodotto di classe energetica superiore vi consentirà di ottimizzare i consumi con un conseguente beneficio in termini di spese. Frigorifero, qualche accorgimento per non sprecare energia. Apriamo e chiudiamo il frigorifero più volte al giorno. Un piccolo suggerimento che vi consentirà di sprecare meno energia consiste nell'aprire la sua porta il meno possibile. Attenzione anche ai cibi troppo caldi, il nostro frigorifero impiegherà maggiore energia per raffreddare il pasto. Parlando di spreco energetico, è importante regolare nel modo giusto la temperatura del frigo che di regola dovrebbe essere impostata da 1 e 4 gradi. Impariamo ad usare il forno. Tra gli elettrodomestici immancabili in cucina troviamo il forno, valido alleato nella preparazione quotidiana dei pasti. Uno dei primi suggerimenti che vogliamo darvi riguarda la fase di preriscaldamento. Se evitiamo di scaldare il forno risparmieremo maggiore energia. Il forno è una macchina energivora e come tale va usata in modo intelligente. Ecco perché per cucinare in modo sostenibile occorre stare attenti anche ai piccoli gesti. Ad esempio sfruttando appieno la capienza del forno si ottimizzano i costi di accensione. Altro tip sutile è legato allo sfruttamento del calore residuo. Spegnendo il forno prima del termine della cottura degli alimenti potrete utilizzare il calore residuo per finire di cuocere i pasti. E al tempo stesso risparmierete energia. Usa la lavastoviglie a pieno carico. La lavastoviglie ci aiuta molto nel litter di pulizia dei piatti. Anche in questo caso è importante sapere come utilizzarla al meglio. Scegliete il lavaggio rapido e a freddo, oltre a usarla sempre a pieno carico. Il tritarifiuti è un valido alleato per una cucina zero waste. La cucina del futuro risponde alla definizione zero waste. Ridurre gli sprechi, riciclare e riutilizzare in modo creativo è ormai un mantra per molte persone. Uno degli elettrodomestici da non sottovalutare è il trituratore, uno strumento fondamentale per lo smaltimento dei rifiuti. Il tritarifiuti è pratico e igienico. Si installa sotto al livello e non occupa troppo spazio. Una volta installato consente di rimuovere rapidamente i rifiuti in decomposizione, basta attivarlo e in un attimo ogni avanzo di cibo scompare. Con il tritarifiuti possiamo eliminare facilmente ogni traccia di spazzatura, evitando anche i cattivi odori provocati dai cibi nella pattumiera. Niente più pile di sacchi della spazzatura, con il trituratore di rifiuti possiamo ridurre in poltiglia gli scarti alimentari e smaltirli velocemente. Riuso e riciclo, cambiamo le piccole abitudini di tutti i giorni. Come abbiamo visto in precedenza, modificando le nostre abitudini possiamo fare del bene al pianeta. La cucina è il regno della creatività, per evitare lo spreco alimentare basta mettere in campo dei piccoli stratagemmi che permettono di recuperare parti di cibo altrimenti scartate. Ma non solo, fare la spesa in modo attento e osservare la scadenza riportata sulle etichette ci aiuterà a conservare gli alimenti nel modo corretto. Un'efficiente organizzazione vi permetterà di non sprecare mai del cibo. Niente più plastica. Esistono numerosi metodi per conservare gli alimenti senza utilizzare la plastica. Oltre al vetro e alla ceramica possiamo acquistare dei sacchetti di cotone oppure dei fogli di cera d'api da usare al posto della pellicola trasparente. Come ridurre l'uso della plastica in cucina. Niente più bicchieri o piatti usa e getta, meglio optare per le classiche stoviglie. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici commenta questo approfondimento. Grazie. Grazie.